L'attività del storio giovanile sta andando avanti, siamo nell'ultimo periodo, speriamo di finire bene. Abbiamo fatto anche quest'anno un buonissimo lavoro, speriamo di crescere ancora di più negli anni a seguire. Il camp invece è una tradizione, ormai cerchiamo di portarla avanti, ci stanno anche dei buonissimi riscontri, abbiamo la possibilità di farli in diverse località belle, per cui abbiamo sempre tantissimi ragazzini che si affacciano ai nostri camp e speriamo che possiamo continuare ancora così. Quest'anno ancora una volta cerchiamo di tenere fede a quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, ma in futuro se riusciamo ad espandere ancora di più il discorso dei camp lo faremo molto volentieri. Chiaramente in questa società si fanno i passi sempre giusti, non si fa niente di azzardato, si cerca di studiare tutto nei minimi dettagli e quando sarà fatto cercheremo di farlo come li stiamo facendo qua attorno al territorio, nella maniera giusta e in maniera bella. La possibilità ai piccolini e ragazzini di potersi iscrivere al nostro camp e di farli vedere come si lavora, perché poi il camp, va sottolineato, sono sempre i nostri istruttori e allenatori che li guidano, perciò gli diamo anche soddisfazione sotto quell'aspetto. Speriamo che possano venire in tanti a farci compagnia come negli ultimi anni dove abbiamo sempre riempito tutte le location, per cui siamo consapevoli che con loro ci si diverte sicuramente. La maggior parte delle squadre francamente ci hanno dato grandissima soddisfazione, siamo felici di quello che stiamo facendo, francamente devo essere contento per il lavoro che si sta svolgendo dalla primavera fino ai più piccoli. Stiamo crescendo, i gruppi sono competitivi, qualche ragazzo si sta facendo al calcio che conta, che la cosa più importante è quella. Stiamo monitorando anche i ragazzi che sono fuori in giro in prestito alle società di Serie C o di Serie B, perciò penso che la società stia facendo ancora un ulteriore passo in avanti. Speriamo che in futuro possiamo essere ancora più bravi a mettere alla disposizione la società dei ragazzi che possono essere pronti per la prima squadra. Gli obiettivi sono, come abbiamo detto prima, quelli di finire al meglio la stagione, abbiamo delle squadre impegnate play-off, la primavera che deve continuare nelle ultime partite a far punti, così ci teniamo stretto quello che è la primavera 1, un campionato difficilissimo, anche se noi abbiamo una primavera forte, che ci ha dato anche delle buone soddisfazioni. Con due squadre facciamo i play-off, con Berretti facciamo la semifinale del campionato Berretti, però l'obiettivo principale è sperare che l'anno prossimo qualcuno di questi ragazzi si affacci alla calcio professionistico, che è quello che ci farebbe piacere. Sono settimane bellissime, sono settimane indimenticabili, perché poi ti porti a casa tante cose, ti porti a casa delle amicizie, ti porti a casa dei ricordi e dei momenti, come ti dicevo, indimenticabili. Io l'ho fatti quando ero piccolo, ma mi ricordo benissimo le amicizie, il fatto di poter stare una settimana anche semplicemente via da casa, ma con dormire fuori. Credo che sia un bel momento e soprattutto quello di divertirsi, di fare quello che più ti piace, ma farlo in un contesto diverso. Non è la classica settimana che vai al campo e ti alleni qualche volta, ma è proprio giornalmente, fare tante attività con i tuoi amici. Credo che sia che i ragazzi aspettano questo momento da tanto e sono anche un po' invidioso onestamente. Il lavoro del settore giovanile negli ultimi anni probabilmente il calcio italiano sia un po', non dico dimenticato, ma l'ha messo un po' in secondo piano e invece adesso che siamo in un momento di difficoltà, o lo eravamo, ci rendiamo conto quanto è importante. La società del Sassuolo credo che nel momento in cui è salita in Serie A ha ampliato questa cosa, ha lavorato tantissimo sul settore giovanile, ne sta trovando i risultati, credo che sia fondamentale per poter costruire un futuro solido a questa società, per senso di appartenenza, per comunque dare la possibilità alla società di trovare dei giocatori, dei talenti già nel settore giovanile. Credo che sia un serbatoio troppo, ma troppo importante per chiunque. Il Sassuolo Calcio sotto questo punto di vista sta avendo anche di ottimi risultati. Spiegazioni, credo che ognuno di noi ne abbiamo parlato, ma credo che ognuno di noi sa benissimo cosa non è andato. Abbiamo giocato probabilmente con troppa superficialità, siamo stati un pizzico presuntuosi, non avevamo l'atteggiamento giusto. Questa è la dimostrazione di quanto è importante arrivare con gli atteggiamenti giusti, perché una settimana prima eravamo quelli che ha battuto la Fiorentina, che ha battuto il Verona e poi tutto un tratto abbiamo preso quattro scopole a Crotone. Quindi per farti capire quanto percentuale di importanza tra gli atteggiamenti e la testa. Sappiamo comunque benissimo che il campionato non è finito, che può succedere di tutto e la cosa importante è fare una buona settimana con la testa giusta e cercare di affrontare un avversario che in questo momento sta lottando per un piazzamento europeo. Quindi è una squadra forte, allenata da allenatori che non ho mai avuto ma che mi incuriosisce tantissimo con dei giocatori di valore. Quindi sarà una partita molto complicata, però bisogna essere bravi a, come ti dicevo, a prepararla bene, avere la testa giusta, l'atteggiamento giusto, perché l'abbiamo già dimostrato, non bisogna inventarsi niente, bisogna essere quelli delle ultime partite e cercare di portare a casa qualcosa. Portare a termine una stagione complicata, ma comunque con un risultato importante, perché la la permanenza in Serie A in questo momento è diventato, da qualche mese è diventato un risultato molto molto importante e quindi bisogna essere bravi a chiudere la pratica domenica.